Ciao a tutti ragazzi e come al solito sono Frankie ed oggi sono qua per questo nuovo video di Tomb Raider E allora, non perdiamoci in schiacchiere e cominciamo Allora, tra l'altro devo fare una prova, io questo video proverò a renderizzarlo a 60 fps Minchia, sei bravo Frankie, dopo 80 anni inizia a fare video a 60 fps Non finti niente, c'avate ragione Allora, da scorsa puntata qua era successo un bordello micidiale Ma a noi, poco importa Qui abbiamo il fucile, mi sembra quasi tutto fatto Mi sembra spettacolare Ci mancherebbe soltanto questo Vabbè Però c'è pure il fucile a pompa Il fucile a pompa Insomma, io farei una bella cosa Per ora non potenziare niente, me ne ritengo da parte Adesso è arrivato il momento di fare tanta exploration Che questo posto a me Me puzza, me puzza molto il posto Cioè, l'ho sentita C'è proprio puzza dei nemici Mi dispiace dirvelo Ma sì Allora, qua sotto innanzitutto c'è qualcosa Ovvero, una cosa Un'altra cosa Vedete, fucile automatico componenti Se io adesso What? Cioè io non posso passare di qua perché Ma va, va Ma cosa? Aspetta, mi è apparso un premier Eh, eh, cosa premier Eh, premier per fare cosa Vabbè, non si capisce Comunque Allora, adesso Ah, questo qua Eh, però io non voglio fare rumore adesso No, no Attenzione, è una cosa da esaminare Che divertimento Comunque Eh, vediamo un po' Cos'è Eh, sì Nel Giappone feudale Aspetta e spera Nel Giappone feudale Sì, sì Contaci, Lara Contaci Ma mi raccomando È bella e lei è convinta Che sta trovando cose incredibili In realtà sta Semplicemente andando Verso la sua morte Lenta e dolorosa Però Comunque Eh, mi sa che ci tocca far rumore Ci tocca No Ecco, questo Ah, eh Vabbè Allora, sti cavoli Tanto vale Lo faccio pure di qua A posto Sì, tranquilli, eh Era un rumori Ah, ma questo era No Niente Scusate, basta Non parlo più Perché sennò se parlo Dico No, no Qua sotto sì, però Qua sotto era il posto Dove eravamo passati Inizio Cioè, qua sotto Eh, sì Qui Qui mi ricordo, eh Eh, non datemi del pazzo Perché Perché, insomma, eh E allora Adesso Bisogna prendere Un po' di frecce Perché me le sto tutte Ponte finendo Perché quel combattimento Di prima Mi ha prosciugato tutto Aspetta Ma si usa l'istinto Vabbè Ok Prendiamo questa cosa qui Sì, certo Perché se non te Io mi metto a leggere le cose Mmm Mi sa che forse Ancora non abbiamo capito Come si ragiona, eh Allora Se io provassi Ad andare Ah, qui c'è un'altra tomba Eh, che bello Oh, c'è uno impiccato No Cioè, impiccato no, però Ma che cazzo Mi è stata di Vede, davvero Mortacci Ma che pezzenti Anche Ah Lara 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 Lara, 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 Lara Oh, munizioni infinite Fatemi capire Io non so cosa devo fare Però adesso Ah, sì Se sparavo qua Ero salvo Vabbè Io sono rimasto di stucco Proprio Perché sta cosa Veramente Oh, ok Abbiamo già trovato Vedi, però Forse servite Mica Ma avete fatto Vendo uno spavento Un altro sacrificio Perché si sono ridotti così Ok Ehm Perché si sono ridotti così Lara Beh, questa è una domanda Che magari Ehm Sai com'è Non fare Vediamo di qua E vediamo di qui Allora Qui dentro c'è qualcosa Ah, vedi Adesso posso dare fuoco A ste cosettine così Ma che bello Fucile automa Un altro Ma quanti componenti Sbaglio ho trovato Ah, prima ho trovato Quello fucile a pompa Vabbè Oggi sto trovando Le peggio robe Manco me ne sto accorgendo Ma siamo troppo forti Adesso Ah, giusto Il nostro obiettivo È andare lì Nel palazzo Di fuoco e fiamme Però Ho visto qualcosa La mia sete Di segreti e tesori Non può essere fermata Ok La discesa Oh ma che sei pazza Ma che cacca Ma che cacca Che cacca Allora Sto facendo un po' troppo L'idiotta Non Oddio Lara se fai sto salto Sei una be... Mamma mia Lara Che salto Tanto non è saputa niente Però Te l'avrei ricompensato Lara Però Sappiamo tutti Lara in che altro modo Puoi essere ricompensata Ok Minchia no però Ma come via via Eh pazzo Ah ah Tu ce l'hai quella più brutta Io ce l'ho quella meglio La piccozza Supera il cancello Ecco Vai fuori Tu brucia l'inferno Ciao Ma non vanno a fuoco questi? Non vanno a fuoco? Scusate Oh no Perfetto È andato Ma brucia... Ah 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 Ma che cacchio Ah ah Eh merda 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 No Non ci voglio credere Da una freccia Ti sei fatta ammazzare Ma non me lo Non puoi eh Non t'azzatare a di Allora Per chinarti Usa minuscola per Ok Grazie Mettiamoci sto fucile Ecco Ecco E alè Ops Tutti saltati in aria Quello è rimasto incassato là Quella Quella c'ha un nome Te lo ripeto Minchia non muore Eh Salcia Finiti? Tutto sto... Eh beh Che non lo sapevo Che non era finita qua Amici Saltate in aria va Eh Non è che vengono pure da qua No Non muore Eh è tosto questo Eh Ok perfetto Finiti? Sì Ho fatto il salvataggio Dovrebbe essere Oh Aiuto quanti Cioè Io non lo so Basta con questi agguati Eh Che poi tra l'altro Vi ricordo Adesso abbiamo messo la difficoltà a difficile Ciò significa Che Che i combattimenti Cioè la difficoltà del gioco è al massimo Quindi occhio Adesso I combattimenti si fanno veramente intensi Comunque credo bisogna andare di qua Tatatatatatatatatata No È bloccato No è bloccato Shit Ah è bloccato forse da questo Devo infiammarlo I panni chiari sono infiammabili Grazie Ora che me l'hai detto Sono una persona migliore Adesso vai Tatatatatatatatatatata Mi raccomando Oh, introduciti nel palazzo Sempre inferno Cancello antico, ok Riposiamoci perché Un po' di relax E proseguiamo Allora Cosa? C'è qualcun altro che è stato inseguito Ma perché? Eh, che bella roba La melma Che be... Eh Lara, ci vivono Te prendi un po' da mucchina Piano piano col tempo Tu inizi a lavarti E dici Una mucchina qua non c'è Eh, eh Solo dici Comunque Prendiamoci qua un po' di Materialis Materialis Perché i materialis Vedo di sapere I materiali sono bellissimi I vicini Allora Cosa? Green Chi è green? Mu se ne esce con un altro green Prima ne era rotta Presto Prendiamoci qua Altri materiali Lara Tanto col tuo amico morirà Non so sicuro Allora Lara Ah, ok Merda No Straniera Muori Mu guarda Guarda se no Mu non vi faccio Mamma mia Adesso v'ammazzo V'ammazzo Ah, la granata No, hanno tirato l'allarme Shit Ma moriteci un po' tutti, eh Cioè Fatemelo sto favore Eh Errore micidiale Ho ottenuto un minuto Ho ottenuto tutti i trofei Senza cosa No, no Pure loro C'hanno le tattiche mie Casca, va Ah Sì, ma Quello là sopra Amico green Eh, amico verde Non ci sta più Vabbè Amico verde Non mi aiuta più Shit Shit Lara Lara Ok, vai Mamma mia Ma poi io Io ho tutti i barilli esplosivi No E loro no Ah Ah Sono arrivati qui sulla piattaforma Lara, ricarica Lara Non dimmi che hai finito le munizioni Ah Pistolero Addirittura Ma io sto tenendo trofei proprio Come se non ci fosse un domani Ne ho visto uno là Oddio Quanti Ah Eh no Non ce la posso fare Uso il fucile a pompa Va Ah Aspetta Io posso usare la piccozza in combattimento Non è vero Scusate Ho detto una bugia Eh, sono morto Ma perché Io potevo usarla Lo me lo ricordo Ammazzatela Ho fatto questo Molto potente Eh, vabbè però Ecco, va Ok Ma aspetta Ma io Vabbè, continuiamo a usare l'arco, va Ok, vai Lara, vai Ah Oddio, quanti Ah Vedi che posso Vedi che posso Ah Vedi Vai Lara, vai Ah Ok Lara Andiamo con caudella adesso Vai Ok È rimasto solo lui Eh, vabbè A parte 800 granate Però Eh, sì Ciao Ma quanti siete Oh, ma non finite più, eh Mamma mia Guardali Non finiscono Eccolo È morto pure quello da davanti Finiti No, ce n'è ancora uno là Dove sta andando Dove Posso salire da qui Ah Verda Hanno una qualche diavoleria Per spostare i carichi Magari puoi usarla Per arrivare dall'altra parte Eh Va bene Sto arrivando Cioè Insomma Cioè Alla faccia Liberazione Raggiungi Raggiungi Grimm Ok Grazie Per avermi fatto questa Grande rivelazione Senza di voi Proprio non ci sarei mai arrivato Ok Salta Lara Andiamo Ok Vediamo Prendiamoci subito la roba qua E Boh Finita qui Saliamo allora Sì Fino laggiù devo andare Ma che siete Pazzi Pazzi Allora Questa diavoleria Che diavoleria Mamma mia Cos'è Boh Ma è apparso qualche Saltiamo qua Non è Non mi sembra un legno Molto stabile Ancora Ancora nemici Mamma mia Ecco Fuori Niente Quando proprio Mi colcio proprio Via Fuori 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 Quello laggiù Guardalo C'è il caschetto Avete visto E' andato a fuoco E vabbè Niente Quando provano a mettersi contro Tomb Raider Alias Lara Croft O il contrario Vabbè Facciamo stare Ok Scusate Scusate No 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 Siete più forti voi Siete più forti voi Siete più forti Ce la potevo fare Ce la potevo fare A sto giro Siamo direttamente Facili A tempo Bene Sì I tre stanno Mamma mia Dai Ok Perfetto Li abbiamo presi tutte e tre E quindi C'è un botto di materiale Sto arrivando a A ziglioni di cose Abbiamo un'altra Tomba Segreta Però Noi naturalmente Non la facciamo Perché siamo un po' Un po' Un meh Ci prendiamo pure questo E possiamo saltare qua Sì Attenzione Lara salta Ah ecco Questo raggiungiamo L'altro lato Interessante Ma lì c'è un accampamento Via Sì sì Quando ci sono nemici Nei baraggi What No Forse se andavo prima Ma il problema è che io da qua non li vedo No no Non ditemelo Io dovevo salvare Vabbè Comunque ragazzi Io direi che per questa puntata è tutto A quanto paresto Accampamento non ce lo fanno usare Che persone perfide Ma comunque Spero che questo video vi sia piaciuto Ci vediamo sempre domani alle 16 Per una nuova puntata E ciao